Giù il tasso di positività quest'oggi in Abruzzo. 69 nuovi casi di covid, l'1% dei 6.685 test processati nelle ultime ore, di cui 1.800 tamponi molecolari e 4.885 test antigenici. Il più anziano tra i nuovi contagiati ha 89 anni, il più piccolo un mese. 25 sono i morti, d'età compresa tra 46 e 94 anni, uno in provincia di Chieti, 4 in provincia dell'Aquila, 13 nel Teramano e 7 nel Pescarese. Dei decessi odierni, 16 sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 499 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.196 positivi accertati, meno 458 rispetto a ieri, sottraendo al totale il numero dei guariti e dei deceduti. 426 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 44, con un nuovo ricovero, sono in terapia intensiva, mentre gli altri in 9.726, meno 454 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questi numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità.